C'è bisogno di X Factor, perché X Factor è un programma che mentalmente è sempre proiettato al futuro. È fatto da ragazzi che sperano di fare qualcosa domani, è fatto da giudici che ti danno un consiglio su quello che ti succederà domani. Questo tipo di speranze in questo momento secondo me è fondamentale per tutti. Giudici, usciamo. Manolito, un minuto fuori, per favore. Questo periodo da cui usciamo, se vogliamo trascorlo in termini fotografici, sarebbe pieno di chiaroscuri. Sono delle zone ben illuminate che poi per molti di noi ha portato a delle introspezioni, perché il tempo libero ti costringe a fare conti con te stesso. E poi tanti lati scuri, perché ti manca molto la socialità, la gioia di stare insieme, di condividere emozioni. Lo definirei un momento gravagesco, no? Rika, un minuto cominciamo. La televisione bella, quella che arriva, arriva passando per il cuore. Bisogna proprio sentire quello che succede. Il mondo in questo momento, di che cosa ha bisogno? Bisogna intercettare il mondo e farlo diventare poi forma e farlo diventare dunque un programma. Manuel, un minuto e cominciamo. L'obiettivo è quello di riuscire a raccontare la musica di oggi. Emma, un minuto e partiamo. C'è la scenografia, ma c'è la fotografia, c'è la regia, ci sono tutta la parte autoriale, c'è l'audio, ci sono tutta una serie di squadre che se non lavorano insieme non arrivano alla meta. Soprattutto dopo un periodo come il lockdown, vedere l'unione di queste persone è emozionante. Soprattutto dopo un periodo.